Cioè io non ho capito che cosa stessa accadendo e perché stavano aggredendo quei ragazzi che non c'entravano nulla. Io non sapevo neanche dell'arrivo dei fratelli bianchi. Quindi lei da quello che ci sta dicendo ha assunto all'arrivo dei fratelli bianchi un atteggiamento per così dire passivo? 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 Cioè voglio dire non ha partecipato attivamente all'aggressione. No. Quindi lei si...